I passeggeri in partenza con Air France si preparano ad un'altra settimana di passione. Si inasprisce lo sciopero dei piloti della compagnia di bandiera francese. Aumentano le adesioni e l'agitazione proseguirà almeno fino a venerdì 26 settembre. Il vettore transalpino ha fatto sapere che per questa domenica conta di garantire solo poco più di un terzo dei collegamenti previsti, ovvero il 38% dei voli. Lo sciopero, iniziato il 15 settembre, sta facendo perdere ad Air France tra i 10 e 15 milioni di euro al giorno, almeno secondo quanto dichiarato dalla direzione. Intanto il sindacato dei piloti ha richiesto nuovamente un incontro con il primo ministro francese. Alla base della protesta il piano aziendale che prevede un forte ampliamento della filiale locosta Transavia e tutto a spese di Air France.